Ciao runners e ciao amanti della corsa, io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast da 0 a 42. Prima di partire però un grandissimo ringraziamento a Xavier Fallico che è entrato a far parte del gruppo dei miei patrons, grazie davvero Xavier. Ma ora iniziamo. Chi segue le varie interviste che faccio sa che più o meno a tutti chiedo verso fine chiacchierata che consiglio daresti a un neo runner? Ecco, oggi provo a rispondere io in prima persona a questo quesito perlomeno in parte, non proprio dando i consigli più base ma rivedendo un po' la cosa, ribaltando diciamo così l'approccio, portandolo appunto su di me e provando a capire un po' che cazzate ho fatto quando ho cominciato ad allenarmi un po' seriamente e di conseguenza poi cosa avrei voluto che qualcuno mi spiegasse quando ho intrapreso questo percorso. Perciò non sarà il classico elenco di consigli per chi inizia tipo scegli la scarpa giusta, aumenta gradualmente, comprati un buon sport, watch file, la visita medica e così via, roba giusta ci mancherebbe ma di quelli è pieno internet quindi facciamo qualcosa di diverso. Ovviamente ci sarà un elemento prevedibile prima o poi uscirà fuori anche in questa lista ma cercherò di evitare i propri consigli più banali e ricorrenti, triti e ritriti. Chiaramente sarà una bella puntata a lista quindi cominciamo subito senza perdere ulteriore tempo. Numero uno all'inizio è dura poi diventerà un po' più facile poi ridiventerà dura poi nuovamente facile e così via più o meno all'infinito ovvero quando si inizia a correre con un minimo di costanza a meno che non si sia già atleti molto molto allenati in qualche altra attività prettamente aerobica ogni allenamento sarà difficilissimo dopo 3 5 10 15 minuti si avrà la sensazione di scoppiare malamente però ed è una cosa che ogni tanto dico superato lo scoglio iniziale di questa prima fase complicatissima correre diventa una sorta di piacere e appunto le corse facili saranno effettivamente così facili tuttavia verrà quasi naturale a quel punto alzare l'asticella provando ad abbassare i propri tempi o allungare le distanze e così facendo tornerà nuovamente difficile correre forse non in tutte tutte le uscite ma sicuramente in una bella parte quelle più sfidanti dove si uscirà dalla classica famigerata zona di comfort e quasi certamente ci si arriverà a questi traguardi così che anche un obiettivo apparentemente impossibile all'inizio poi sembrerà di semplice raggiungimento il che porterà di nuovo a cercare un ulteriore target e così via all'infinito o quasi numero 2 il potenziamento serve e non va snobbato soprattutto per prevenire gli infortuni questo per me è ancora attuale come penso ben saprete figuriamoci quando iniziato ad allenarmi per la mia prima garetta per fortuna i tempi riuscito ad evitarmi i problemi ma così ad esempio non era stato per tanti dei miei amici che avevano iniziato a correre più o meno contemporaneamente assieme a me con l'esperienza mia e dei miei compari ho capito che è necessario dedicare almeno una sessione a settimana se non di più alle altre attività di forza complementari al running il primo punto è proprio quello di prevenzione infortuni perché un fisico più forte sarà in grado di sopportare maggiori carichi di lavoro e poi cosa che comunque schifo non fa aiuterà anche nell'andare più veloci terza cosa ognuno ha la sua tecnica personalissima di corsa ma se vuoi modificarla meglio farlo subito negli anni ho visto correre con una miriade di tecniche diverse ognuno la sua bello brutta che sia efficace o poco economica che sia vale anche per me chiaramente tuttavia ho notato come ci siano a volte persone fortissime nonostante il fatto che vedendole correre ti chiederesti come facciano anche solo a deambulare neanche a correre il punto è che il corpo si adegua in qualche modo la propria tecnica e compensa eventuali mancanze rendendo a volte così economici gesti atletici che di atletico apparentemente avrebbero ben poco ad ogni modo se avessi appena cominciato a correre vorrei modificare fin da subito la mia tecnica detto che poi personalmente l'ho dovuto fare ma successivamente e non è così facile quindi le cose da sapere e semmai eventualmente attuare sono due la prima è decidere di tenersi la propria tecnica consapevolmente sperando che il corpo sia adegui e che questo non porti ad acciacchi la seconda è invece modificarla fin dal primo giorno partendo subito con il piede giusto per così dire dato che è molto più semplice e meccanizzare un gesto quando sia all'inizio seppur non si sia più giovanissimi rispetto a farlo dopo un po di tempo che lo si ripete nel modo in cui ci si è abituati ed è venuto naturale farlo agli albori quarto si faranno delle cazzate e ci saranno dei momenti no quando si inizia con una nuova attività non per forza la corsa in generale si è pieni di ambizioni d'aspettative si sognano traguardi lontani si crede che tutto sarà sempre perfetto impeccabile ed è anche normale che la si possa immaginare così tuttavia è bene sapere fin dal principio che il percorso non sarà esattamente così lineare e senza intoppi prima o poi ci saranno degli allenamenti un po fattimalino o saltati del tutto qualche acciacco così come dei periodi di scazzo e di poca voglia di allenarsi credo sia fisiologico accadrà prima o poi anche questo però fa parte dell'essere runner e andare oltre a queste giornate o momenti di poco amore per la corsa col tempo si imparerà pure ad amare per certi versi queste situazioni ma quando ci si ritrova lì nel mezzo tutto appare molto più grigio e poco motivante poco stimolante credo però sia bene saperlo e mettere in conto anche questo aspetto numero 5 creare una routine ti renderà un runner più costante a proposito di motivazioni anche loro prima o poi caleranno pure questo inevitabile io ci ho messo mesi e mesi per capire in che momento della giornata avrei avuto la possibilità e la volontà di allenarmi ma soprattutto ci ho messo dei mesi per capire che è molto più semplice andare a correre sempre allo stesso orario rendendola così un'abitudine certo lo so che per alcuni questo è infattibile magari per via degli orari del lavoro ma personalmente invece avendo degli orari piuttosto standard in ufficio è possibile ad ogni modo all'inizio non era così e mi allenavo un po quando riuscivo magari facendomi sostenere moralmente motivandomi uscendo con i miei compagni di allenamento incastrando così invece orari comuni a tutti paradossalmente però ho iniziato a correre con maggiore costanza quando ho iniziato a farlo da solo non tanto per il fatto di essere in solitaria ma proprio perché al mattino sono poi riuscito a creare un orario sempre libero per me per la corsa rendendo per me una sana abitudine alzarmi ed allenarmi proprio a quell'ora sesta cosa trovare il proprio passo richiede tempo quando si inizia a correre per la prima volta può sembrare anche relativamente facile farlo velocemente per i primi minuti ma poi è molto difficile mantenere quel ritmo da quel momento in poi così che si parte troppo forte e poi si arranca per il resto del tempo ci vorranno settimane se non mesi per capire e capirsi e così regolare di conseguenza meglio il passo in questo senso teoricamente sarebbe meglio essere più conservativi all'inizio rispetto a quanto si possa pensare di poter valere per evitare di avere la lingua per terra dopo pochi minuti di corsa cosa ovviamente che ho fatto un sacchissimo di volte i primi tempi dove partivo eccessivamente veloce e schioppavo nel giro di cinque minuti numero 7 non si vive solo di ritmo medio un'altra cosa che viene abbastanza immediata e naturale fare è correre al cosiddetto ritmo medio che comunque non va demonizzato in linea assoluta però si inizia a prendere confidenza con il running e quindi correre non è sempre proprio sempre un'agonia e ci si attesta costantemente ad un passo che è semplice ma non semplicissimo credendo di migliorare quel passo che pensiamo si possa tenere abbastanza a lungo ma non proprio all'infinito ed è per l'appunto questo ritmo medio che anche io ho esplorato tante tante volte nella mia prima fase da runner chiaramente se sia in condizioni simili alla mia dell'epoca ovvero abili per correre ma non assolutamente molto allenati si migliorerà lo stesso ciò nonostante sarebbe bene creare alternanza di diversi ritmi per migliorare in modo più organico correndo molto 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 lentamente la maggior parte del tempo così anche poi per evitare rischi da sovraccarico ottavo non si vive solo di corse facili nemmeno questo sì ma non subito in naturale prosecuzione se vogliamo del punto precedente cioè dopo pochi giorni che ho intrapreso il percorso personale mio in ottica mezza maratona quindi per mia prima gara sono andato a cercare su internet tabelle e quant'altro per allenarmi come si deve tutto molto bello in teoria peccato che all'inizio non fossi in grado di fare ripetute cose simili o almeno ci provavo le facevi in qualche modo ma abbastanza alla cazzo e ad oggi non saprei se effettivamente quelle mosse fossero così fruttifere come credevo ai tempi per cui è giusto effettivamente non fare solo corsa lenta e nemmeno ritmo medio come dicevo poc'anzi tuttavia se non si è particolarmente in forma i primi tempi ha senso solo correre a sensazione come viene provando a correre come ci si sente perché tanto si andrà sempre al massimo probabilmente delle proprie capacità provando comunque in qualche modo ad ascoltarsi cercando di imparare a farlo senza pensare a cose più complesse anzi per qualcuno potrebbe essere necessario alternare corse camminata e non ci sarebbe nulla di male nel farlo occorre dare tempo al proprio corpo per assimilare gli sforzi e non è detto che tutti quanti si sia pronti fisicamente e mentalmente fin da subito a questo approccio più strutturato numero 9 fare gare non è così terrorizzante come potrebbe sembrare accennavo in qualche punto quella che la mia prima gara è stata una mezza maratona quella di vienna per la precisione e assieme ai miei amici con i quali ho condiviso la preparazione e la gara stessa sentivamo crescere sempre di più l'ansietta man mano che ci si avvicinava al grande giorno dell'evento anche perché eravamo tutt'altro che esperti a nostro agio anzi possiamo dire che eravamo abbastanza alla buona su tanti tanti aspetti non avevamo nemmeno scelto di iniziare poi con la garetta di paese ma devo dire in uno degli eventi più partecipati in europa a livello di corsa cioè la vienna city marathon tra maratona mezze staffetta quell'anno fece più di 40 mila partecipanti o giù di lì e noi un po ci vergognavamo anche così fuori contesto abituati per mesi a correre solo tra di noi ci siamo ritrovati gettati del frullatore in mezzo a tantissima gente a un evento veramente grosso ricordo anche bene come la zona di partenza fosse bella affollata con non solo gli atleti chiaramente ma pure tanti spettatori sia lì che poi dopo successivamente lungo il percorso ma l'atmosfera fu tutt'altro che di giudizio nei nostri confronti del resto noi eravamo una gocciolina nell'oceano una caccolina chi si considerava chi si calcolava tra italiani sconosciuti in mezzo a 40.000 rotte persone e poi ad essere onesti c'era anche gente ben più pannolata di noi scoprì e scoprìmo invece che l'ambiente era davvero meraviglioso una grande festa sia dei runner che del pubblico attorno pubblico che invece non ti insulta ti incita oltretutto ammira il fatto che tu sei là fuori a faticare e così passata questa esperienza ho proseguito a correre e a fare gare ad anni di distanza con l'esperienza ormai accumulata posso affermare con discreta sicurezza che partecipare a una gara è una delle scelte migliori che possa fare un principiante ovviamente non il primo giorno in cui inizia a correre ma dopo qualche mese si vale la pena non solo l'ambiente vi darà più fiducia ma vi darà un po di forza d'animo vi motiverà e vi incoraggerà a continuare decimo spenderai un sacco di soldi caro lorenzo del 2019 sappi che il tuo pensiero iniziale mi compro un paio di scarpe da running buone e poi corro con il completo da calcio sopra era una bellissima cazzata un po come tutte le passioni va da sé che quando ci si cala pieno al suo interno si cerca di migliorare qualcosa l'abbigliamento la strumentazione l'esperienza come appunto le gare appena citate e così via peccato che tutto abbia un costo non sarà un problema a spendere soldi ci mancherebbe anzi lo si farà più che volentieri e sarà quasi un piacere ma è giusto sapere come addentrandosi all'interno del mondo running gli investimenti aumenteranno proporzionalmente all'impegno profuso per correre 11 starei più attento all'alimentazione tante volte si inizia a correre per dimagrire non è stato il mio caso nello specifico ma so che è così per molti dieta o non dieta sarà una conseguenza andare a curare anche l'aspetto nutrizionale e non parlo solo dell'acquistare dei gel buoni da assumere mentre si corre anche perché all'inizio se vogliamo non c'è questa necessità ma piuttosto del fatto assolutamente positivo che si avrà una sana voglia di benessere a tutto tondo che passerà anche dallo stare più attenti a tavola una classica frase che mi viene detta alle cene o ai pranzi è ma tanto tu corri e adesso bruci tutto sì è anche vero parzialmente se vogliamo e uno stravizio ogni tanto non me lo nego ci mancherebbe altro però è altresì vero come diventare dei runner abituali possa portarci ad una maggiore attenzione e consapevolezza sia sulle quantità che forse anche di più sulla qualità di ciò che mangiamo dodicesima cosa correre non significa solo mettere un piede davanti all'altro il più rapidamente possibile sì nella sua forma più semplice ed estrema la corsa è davvero mettere un piede davanti all'altro rapidamente questa affermazione semplificata tuttavia può indurre a credere che sia facile proprio come camminare solo più velocemente la verità è che correre a volte è difficile lo dicevo anche nel primissimo punto e più ci si addentra all'interno della materia e più sfaccettature escono fuori più variabili più complessità più cose cui prestare attenzione il potenziamento lo stretching le andature il foam roller le scarpe l'alimentazione prima dopo e durante la corsa l'abbigliamento l'orologio le tabelle eventualmente un coach le gare su strada quelle su tre lo zenetto le borracce potrei andare avanti avanti a lungo all'infinito credo ma non bisogna affatto lasciarsi scoraggiare anzi è una figata ci sono un sacco di cose da imparare dopo un po si scoprirà che c'è molto di più del solamente mettere questo piede davanti all'altro ma la lunga si imparerà pure ad apprezzare l'idea che correre a volte è difficile e richiede impegno e competenze ma spesso sono proprio le sfide più complesse se vogliamo a dare risultati migliori e più soddisfacenti tredicesima ed ultima cosa non ti paragonare agli altri runner su questo forse si potrebbe fare una puntata intera andando eventualmente ad approfondire gli aspetti psicologici che entrano in gioco quando ci confrontiamo con gli altri dal vivo quando ci si allena o in gara ma anche su strava o sui social però cercherò all'ora di dire solo l'essenziale viene naturalissimo guardare a quelli più forti e ammirarli del resto lo faccio ancora oggi pure io figuriamoci agli inizi è bene guardare agli altri per imparare prendere esempio ma non è il caso di fare paragoni eccessivi pensando di essere dei microbi super piantati in confronto a loro non sappiamo lo storico il percorso il lavoro le abitudini la genetica e le capacità degli altri nemmeno dei più famosi quindi figuriamoci di quello che ci supera sempre al parco e non c'è motivo di paragonarci alle loro prestazioni cosa che per qualcuno potrebbe anche essere stimolante per carità un po di sana competizione può anche essere una buona cosa ma il consiglio che darei e mi darei all'inizio è di non farmi trascinare troppo dai confronti perché spesso possono portare a delusioni di insoddisfazioni magari a breve termine ma forse anche a lungo termine sarebbe meglio concentrarsi su se stessi sul proprio ritmo e sui propri personali obiettivi senza fare propri quelli degli altri è un viaggio estremamente personale quello della corsa e non bisogna mai scordarci di godercelo lista conclusa allora ragazzi queste erano le mie cose che avrei voluto sapere quando ho intrapreso questo percorso che ho scoperto solo meglio col passare del tempo sicuramente ci saranno tante altre cose che voi avreste voluto sapere quando avete cominciato fatemele conoscere informatemi come sempre su telegram potete scrivermi al mio account personale chiocciola lorenzo maggiani oppure via mail o su instagram seguitemi e contattatemi su queste piattaforme trovate tutti i link nelle note dell'episodio vi ricordo anche di lasciare recensioni a 5 stelline su spotify o apple podcast ed infine se anche voi volete fare come xavier che ringrazio ulteriormente in descrizione ci sono tutti i link per sostenere questo progetto c'è patreon per una donazione ricorrente mensile oppure paypal o buy me a coffee per una scelta una tantum direi che per oggi è davvero tutto cari runners comunque si può anche cominciare alla cazzo ma l'importante se vogliamo è averlo fatto ci sentiamo alla prossima puntata grazie a tutti